Con questo breve video vorrei rivolgermi al governo italiano, principalmente al primo ministro Giorgia Meloni. Come lo sa tutta l'Africa, oggi tu sei l'unica, dico bene, l'unica dei politici occidentali che può andare in Africa e non avere la colera del popolo africano addosso. E sai perché? Semplicemente per quello che qualche anno fa hai fatto per il popolo africano, cioè denunciare il franco nazista chiamato franco delle colonie francese d'Africa, il Sefa. E noi africani non ti ringrazieremo mai per quello che hai fatto, perché le tue uscite hanno permesso all'opinione pubblica internazionale, cioè alle masse popolari, di capire un po' che cos'è il franco Sefa. Se veramente vuoi aiutare gli africani, oggi che sei al potere, oggi che sei il primo ministro d'Italia, cioè un pilastro dell'Europa, dici qualcosa sul franco Sefa. Ora che puoi veramente avere un peso sulla politica occidentale, ora che ogni tua dichiarazione fa il giro del mondo, in quanto primo ministro dell'Italia, dici qualcosa sul franco Sefa? Non ti dico nemmeno di mettere in bocca se tutti i crimini che i dittatori messi al potere in Francia stanno facendo subire al nostro popolo, i senegalesi si stanno facendo massacrare da un criminale, in tutta Africa la Francia, dico bene, la Francia e i suoi alleati della Nato stanno armando gruppi di terroristi, di mercenari per terrorizzare la nostra popolazione. Non ti chiedo nemmeno di mettere in bocca in questo, il problema sulla sicurezza del popolo africano, ce ne occuperemo noi, ma del franco Sefa te lo chiedo il nome del popolo africano ora che sei al potere di dire una parola. Riguardo alle tue declarazioni sull'immigrazione, chiunque ha un po' di buonsenso direbbe che ha ragione, è veramente una persona umana, è normale che la gente non entra in Italia in modo clandestino con tutte queste barche, no, non va bene, agli africani noi abbiamo parlato, dal nord Africa si vedete un nero su una barca verso l'Italia, sappiate che sono africani che vivevano già in nord Africa dai tempi di Gaddafi, trucidato da Sarkozy, cioè la Francia, l'Inghilterra e l'America. Quelli sono i veri responsabili di tutto quello che sta succedendo nel nord Africa e questo è stato studiato a tavolino. Il perché dell'assassino del Gaddafi e le conseguenze li vediamo tutti, tutti lo sanno. quindi il tuo ministro dell'interno che già sta facendo fare figura di merda all'Italia sul piano internazionale con le sue dichiarazioni, dicendo che la Russia ha messo la sua testa, la Russia lo vuole ammazzare 15 milioni e non so che cosa. La gente sta ridendo perché questa è solo buffoneria. Ma non gli basta questo, aggiunge anche che i russi sono responsabili dell'immigrazione. Un trafficante d'arma, un venditore di arma che si permette di raccontare stronzate cosmiche al mondo intero. è la Russia che è responsabile dell'immigrazione o è l'Europa, cioè la Francia e i suoi associati. In un altro contesto, in un altro momento, dire che gli immigrati non devono venire in modo clandestino in Italia, non solo in Italia, ovunque del mondo, nessuno deve entrare clandestinalmente su un altro territorio, è giusto. Ma nella condizione attuale dell'Italia, prima di pensare a fare venire un altro flusso di immigrati qui, anche regolarmente, date a lavorare a quelli che sono già sul territorio. Sono milioni, senza lavoro, senza casa, senza nessuna possibilità. Aiutati dalla Caritas e dell'Associazione Umanitaria Italiana che li stanno aiutando in tutti i modi. Ho girato a Milano, incognito, a Roma, a Torino. Ho visto in che condizione gli immigrati, non dico solo noi africani, quasi gli stranieri, in che condizione vivono in Italia, in Francia, in Germania. Nel momento che stiamo vivendo. Quelli che stanno già qui non hanno da lavorare, gli italiani non hanno da lavorare. Quindi il discorso di fare entrare le persone con un flusso regolare a che serve? A aggiungere merda su merda? Perché questo è. Quelli che sono già qui sono milioni, non hanno da lavorare, non hanno da dormire. E voi dite alla gente che devono arrivare, ma tutto questo è un progetto dei satanisti. Vogliono usare gli stranieri, cioè gli africani, come bomba umana, come strumento di destabilizzazione. Perché quando milioni di persone si trovano su un territorio che non era loro, non capiscono la lingua, non sanno a chi rivolgersi, sono persone che presto o tardi o finiscono matti, drogati, alcolizzati, o finiscono nelle mani della criminalità. E qualsiasi essere umano che ha fame è pronto a qualsiasi cosa per mangiare. Oggi nei supermercati gli italiani rubano il cibo. Passi davanti alle caritas, gli italiani sono in fila per avere un piatto di pasta. Risolviamo prima quello che c'è come problema all'interno del paese e poi possiamo pensare a chi vogliamo fare venire. Per noi africani l'immigrazione è una cosa che deve essere fermata. Gli africani non devono più partire dall'Africa. Gli africani devono stare a casa loro e godere di tutte le ricchezze che il Signore ha messo a loro disposizione. Nel frattempo l'Occidente e le multinazionali della setta satanica che governa questo mondo sta derubando il mio popolo da secoli. Le materie prime escono dall'Africa senza pagare. Il meccanismo l'abbiamo spiegato agli africani. E presto lascerò delle interviste in cui ritornerò di nuovo in dettaglio siccome il territorio africano è saccheggiato e se quello che stanno facendo con i terroristi mercenari che hanno sversato nel Sahara e nel centro Africa per destabilizzare, per terrorizzare la nostra popolazione. Quindi ti dico gentilmente Meloni, te lo chiedo al nome di tutta l'Africa dici qualcosa sul Franco Sefa per favore il governo italiano ditte qualcosa sul Franco Sefa ma so che non lo farete non lo farete perché finché uno non è al potere può dire quello che vuole però quando arrivi al potere che ti siedi nella stanza dei bottoni capisci qual è la realtà della politica però tutta Italia deve sapere che la Francia vive del sangue del popolo africano è che una delle cause, per non dire la causa principale dell'immigrazione dalle nostre parti cioè l'Africa dell'Oest e l'Africa centrale è dovuto al Franco Sefa perché noi lavoriamo tutti i nostri soldi vengono confiscati dal governo francese noi lavoriamo le multinazionali francesi hanno il monopolio di tutto in Africa nel frattempo il popolo africano non ha l'acqua potabile non ha da mangiare non ha l'elettricità non ha gli ospedali non c'è niente niente di niente e avete installato cioè le elite sataniche occidentali hanno installato sul popolo africano dei criminali, dei dittatori dei assassini episcopatici che stanno massacrando il nostro popolo con l'appoggio della Francia abbiamo denunciato la Francia nel Mali abbiamo denunciato la Francia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite niente silenzio totale e la Corte Penale Internazionale lancia un mandato d'arresto contro Putin perché non lo lancia contro Sarkozy perché non lo lancia contro Blair e tutti questi criminali inglesi questo criminale di Barack Obama Bush e compagnia sono liberi smettetela 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 il mondo intero ha capito tutto il gioco e Meloni tu puoi entrare nella storia umana tu puoi entrare nella storia se farai quello che devi fare cioè avere il coraggio oggi oggi che sei al potere di uscire con una dichiarazione di un minuto sul Franco Sefa l'Italia può essere un partenario privilegiato del popolo africano aiutaci a uscire da questo Franco Sefa e vedrai che cosa noi siamo disposti a fare per l'Italia in Africa oggi in Africa la mia voce è più forte della voce di qualsiasi dittatore africano io sono il loro terrore il loro incubo se io dico agli africani questa signora è una signora dignitosa che ama il nostro popolo vai in Africa e vedrà che acquaienza calorosa calorosa che tu avrai dal popolo africano Macron può andare in Africa va di nascosta di notte non può più entrare in Africa di giorno perché sa che il popolo l'aspetta all'aeroporto ti supplico dissi qualcosa sul Franco Sefa e evita di dire certe cose perché è controproducente non ne hai bisogno e prima di finire ti voglio dire una piccola cosa tira fuori il tuo paese di questa guerra tira fuori l'Italia di questa guerra i russi amano gli italiani gli italiani amano i russi sono due popoli che non hanno nessun problema e sappiamo tutti che questa guerra lo ha detto Zelensky stesso che gli americani devono mandare i loro figli a combattere perché quella guerra la stanno facendo per la NATO che di mandare soldi, armi all'Ucraina usa questi soldi per aiutare i poveri italiani guarda in meridione d'Italia come è? guarda in meridione d'Italia vedi in che condizione è la gioventù italiana oggi con dei lavori precari nessuno può nemmeno fare un progetto di costruzione di un futuro è impossibile in questo paradigma e l'America spinge spinge dietro è nascosto il potere satanico anglosassone devi tirare l'Italia fuori da questa guerra il popolo italiano è un popolo pacifico nel paese nessuno è d'accordo con questa posizione nessun italiano vuole la guerra e tutta la narrazione del menstrual forse qui qualcuno crede vai in Africa e chiedi al primo africano che incontri si metterà a riderti in faccia vai in Asia vai nei paesi arabi tutti sanno che è un'aggressione dell'America sulla Russia è un'aggressione del potere satanico che governa quello che Trump chiama la cabala internazionale che governa con violenza con le armi tutta l'umanità Macron che sta violando tutti i diritti basilari dell'essere umano in Francia picciando, maltrattando, vessando i francesi per imporre una riforma delle pensioni ma chi in sé? la Francia è per strada quindi finché il Franco Sefa esisterà gli africani lavoreranno e i negrieri francesi prenderanno questi soldi noi lavoriamo loro vivono dei nostri soldi e di più qui la classe politica delinquente si divide in due gruppi uno per l'immigrazione uno contro l'immigrazione come se fosse una cosa seria non c'è niente di serio hanno tutti gli stessi padroni è solo un gioco delle tre carte avrei tante cose da dire sulla politica interna italiana e come ho detto a persone molto vicine al tuo partito che sono amici mie non dirò niente sulla Meloni l'unica cosa che gli chiederò è di aprire bocca adesso dico proprio adesso che noi abbiamo un urgente bisogno per fare una dichiarazione come ha osato fare nel passato sul franco coloniale Sefa mi fermo qui per oggi e ti supplico tira fuori il tuo paese da questa guerra anglosassone tira fuori il tuo paese da questo questi criminali si stanno trascinando verso siamo quasi a un punto di non ritorno la corte penale internazionale è diventata una barzelletta per il popolo africano il presidente della Costa d'Avorio il legittimo presidente è stato deportato tenuto in galera per sette anni a Laia l'hanno liberato senza scusa il criminale che ha ucciso in Costa d'Avorio è ancora al potere appoggiato dalla Francia la Costa d'Avorio è una base militare francese il Niger è diventato una base militare dell'OTAN della logistica americana in Africa il caos i crimini che stanno facendo in centro Africa specialmente nel Congo è sotto gli occhi di tutti l'Italia può essere un interlocutore privilegiato in tutto questo io con questo ti sto dando una mano e spero che tu mi ascolterai ti auguro buona giornata signora Meloni e fai una profonda riflessione tu puoi entrare nella storia o finire nella spassatura per sempre dipenderà solo di quello che tu deciderai di fare e le tue azioni potranno essere benefiche per l'Italia molto presto perché l'Africa si libererà della Francia e se tu ti comporterai in amico dell'Africa in amica dell'Africa vedrai cosa noi faremo per l'Italia in Africa mi fermo qui stamattina buona giornata a tutti